Dal 18 aprile al 20 maggio 2024 è possibile presentare domanda per la sostituzione dei presidenti di seggio in occasione delle prossime elezioni europee, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno e per ogni altra tornata elettorale indetta nel corso dell'anno. Gli elettori interessati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e non risultare cancellati dall'albo dei presidenti di seggio delle corti d'appello. La domanda di partecipazione per presidente sostituto deve essere effettuata in modalità telematica collegandosi all'indirizzo sostituzione-presidentiseggio.comune.napoli.it e accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile inoltrare l'istanza via email all'indirizzo sostituzione-presidentiseggio.comune.napoli.it compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito del Comune a cui andrà legata copia del documento di riconoscimento.